partite video ok ragazzi buona serata scusate il disturbo anzi penso che vi piacerà molti comunque qui ci sono tre pedardi c'è un monello un cobra più uno è il famoso pedardo fatto con la polvere dell'altro giorno comunque vi voglio dire che bisogna fare molta attenzione su questa polvere ve l'ho detto sempre in tutti i video quindi attenzione sempre al massimo attenzione se non siamo sicuri non facciamo niente perché questi possono fare veramente male anche se ha realmente non possono funzionare adesso proviamo il copro più uno perché c'è una macchina che deve passare ovviamente oggi è molto confusionata la strada e noi facciamo i rompi coglioni della strada comunque andiamo a testare prima il combro più uno benissimo qua vicino quindi farà un botto grandissimo infatti veramente ha fatto un coppo da un grammo perché era qua vicino purtroppo si è inciappato nell'albero questo è il monello ammazza devo dire che il monello promette bene e adesso abbiamo una la nostra botta che spareremo lì la nostra camera ci prenderà mentre accenderemo che dirà e sembra che c'è una macchina che ci deve seguire noi siamo molto seguiti dalle macchine capito non solo da voi ma anche dalle macchine tappate le orecchie tappate non solo da voi ma anche dalle macchine